Ciao ragazzi, io sono Dario e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto perdonatemi per questa lunga assenza, non era un'assenza premeditata, ma purtroppo una serie di fattori. Mi sono stati commissionati dei lavori all'ultimo, avevo 15 giorni per completarli, qualcuno anche abbastanza importante, quindi non ho avuto il tempo materiale per poter registrare. I video in cantiere ci sono, li vedremo nelle prossime settimane. Vorrei quindi partire con un video che non è un tutorial ma è un timelapse, una serie di immagini accelerate di un lavoro fatto appunto per Pasqua, è il lavoro del Santo Sepolcro. È un lavoro abbastanza grande per personaggi da 20 cm di 1,30 m di larghezza circa. Magari, anche se questo non è un tutorial, però durante i fasi di lavorazione potete comunque dare un'occhiata alla colorazione, alla struttura, come l'ho realizzato e può esservi di aiuto, spero che vi possa essere d'aiuto. Qualcuno di voi l'avrà già visto nella mia pagina Facebook, anzi per chi di voi ancora non la conosce, si chiama come il canale I presepi di Dario, quindi andatemi a cercare e lì pubblico io delle foto, dei video di lavori che realizzo, quindi non solo dei tutorial ma tutto ciò che io faccio e realizzo. Prima di proseguire vi ricordo comunque di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati e partiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene ragazzi, anche questo video è terminato, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordo di lasciare un bel like e ci vediamo al prossimo video.